Ho scelto di fare domanda per la Borsa Fulbright perché ho visto l'opportunità del bando di concorso che mi ha interessato moltissimo in quanto in Italia avere una competenza di grafica legata alla possibilità di vista delle persone sorde è molto difficile. Allora ho deciso che vista la mia esperienza potessi partecipare a un programma in America per il futuro, tornare in Italia e sviluppare con la mia esperienza fatta negli Stati Uniti e sviluppare diversi progetti. Grazie a tutti.